Tornano le aperture serali al Parco archeologico di Ercolano. Le serate evento dei venerdì di Ercolano sono percorsi accompagnati al sito arricchiti da proiezioni di luci e riproposizioni di videomapping in alcuni dei capolavori di pittura e scultura provenienti da Ercolano a partire dagli scavi borbonici. I gruppi sono composti da massimo 10 persone per le norme di prevenzione anti-covid-19. I temi figurativi selezionati per le proiezioni e per i tableau vivant di questa edizione sono legati alla figura di Ercole, l'eroe che dà il nome alla città, e sono presentati in una sequenza che, accompagnata dalla narrazione delle guide, suggerisce il fascino e la forza dell'esempio che il mito dell'eroe ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche all'apoteose tra gli dei dell'Olimpo, che erano frequenti ogni giorno nei luoghi privati e pubblici dell'antica Ercolano. Il direttore del parco archeologico Francesco Sirano. La reazione, la ripresa Ercolano è un luogo di resilienza e con la magia delle luci, con la realizzazione di tableau vivant che ci ripropongono il mito di Ercole, l'eroe che ha dato il nome a questo sito e che ci può essere da guida per imprese, per la ripresa, il parco archeologico di Ercolano è lieto di accogliere di nuovo il suo pubblico di notte, la magia si rinnova e abbiamo avuto già una risposta importantissima, quasi tutte le serate stanno per essere sold out.